AcquaFair 2019 AcquaFair 2019 Siamo allo stand di H2O SRL Un'azienda romana che però non si ferma al territorio della capitale ben rappresentata qui dal suo amministratore unico Damiano Galbiati Benvenuto Grazie Damiano spieghiamo in 45 secondi la storia di H2O SRL Allora H2O è nata nel 1999 quindi facciamo 20 anni proprio adesso ad aprile è stata fondata da me insieme a quella che è oggi mia moglie ma in realtà non lo era siamo nati con gli erogatori a boccione quindi il noleggio degli erogatori a boccione per gli uffici e attorno al 2007 abbiamo iniziato a installare le prime macchine all'accia della rete idrica sempre a noleggio ed è evoluto tantissimo perché ovviamente questa richiesta da parte delle aziende di prodotti ecosostenibili e servizi ecosostenibili ci ha portato ad aumentare sempre di più le macchine all'accia della rete idrica da lì poi abbiamo iniziato anche a fare un'attività di rivendita per tutti ciò che sono sia macchine che accessori, ricambi, filtri per altre aziende sempre del settore della rete idrica intanto diciamo che se vuoi tua moglie ti ha portato fortuna o forse il lavoro ha portato fortuna a te e all'azienda facendoti trovare anche moglie esatto adesso praticamente per rimanere un po' da solo devo andare in banca Allora Damiano qual è il motivo che vi ha spinti ad aderire a questo Aquafair 2019? Dunque l'Aquafair innanzitutto sono uno tra i promotori quindi non potevo non mancare all'Aquafair però sicuramente è l'unico appuntamento reale per noi che facciamo questo lavoro per avere diciamo la possibilità di esporre i nostri prodotti a livello italiano perché ovviamente a livello europeo e internazionale ci sono molte altre fiere ma a livello italiano non esisteva una fiera e quindi Aquafair è sicuramente un modo per potersi farsi conoscere e far conoscere i propri prodotti Parliamo proprio di prodotti alle nostre spalle e intorno a noi ci sono tantissimi prodotti che evidentemente rivendete e o producete e distribuite Sì, noi non produciamo niente in realtà siamo dei semplici distributori però quello che vogliamo fare è cercare di avere a 360 gradi la possibilità di soddisfare i nostri clienti con tutto ciò che riguarda appunto le macchine allacciate alla rete idrica quindi sia macchine che qualsiasi cosa che possa essere un ricambio anche abbastanza specifico che possa risolvere e magari far ripartire una macchina che invece rimarrebbe ferma Damiano, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui chi è dall'altra parte che evidentemente si occupa di fuori casa bar, ristoranti, bistro e così via a cui può scrivere senza alcun impegno? Allora, noi abbiamo fortunatamente un sito, un indirizzo molto semplice perché il sito è www.h2.it e la mail è infochiocciolah2.it Bene, grazie per la disponibilità saluta tutti loro mentre io poi mi avvio verso altro stand a fare altre interviste Un saluto a tutti grazie e buona giornata